Ciao a tutti ragazzi a JTF Clan, io sono JTF Retentive e oggi sono qui a portarvi un nuovo video qui sul canale del clan oggi sono qui a portarvi un gameplay di il nostro JTF Tempest eseguito su Advanced Warfare si tratta della DNA Bomb in tutti contro tutti più veloce Italia effettuata in soli 2 minuti e 0,5 con questo BAL 27 c'è da dire relativamente al gameplay che non è stato fatto utilizzando la specialità inflessibile quindi sarebbe potuto essere in primo luogo una DNA più veloce perché comunque con inflessibile avrebbe preso la DNA Bomb a solo 29 kills invece che 30 e per l'appunto se il nostro JTF Tempest avesse utilizzato inflessibile avrebbe potuto anche tentare una doppia DNA Bomb oppure tripla visto comunque il brevissimo tempo intercorso per portare questa DNA Bomb oggi ho veramente pochissimo tempo perché come ho detto la DNA dura 2 minuti e 0,5 ed è la più veloce in Italia e volevo semplicemente chiedervi in primo luogo come vi è andata la pagella, se siete stati promossi eccetera so che molti di voi magari hanno l'esame maturità o terza media buona fortuna a quelli che comunque devono ancora finire so che lunedì cioè domani ci sarà la terza prova so che la seconda prova è stata molto difficile per i scientifici di maturità perché una mia amica che comunque l'ha dovuta sostenere ha detto che si è trovata veramente in grossa difficoltà con matematica quindi io spero bene per il prossimo anno visto che il prossimo anno anche io sarò maturando quindi niente fatemi sapere più o meno come vi è andata la scuola e tutto se siete promossi, rimandati, bocciati, spero di no e poi più che altro volevo anche sapere che cosa farete voi per le vacanze io personalmente non ho ancora deciso dove andrò con la mia famiglia forse visto che comunque io compio 18 anni tra esattamente 8 giorni per voi che vedete il video magari mio papà mi lascerà partire da solo per andare da qualche parte comunque mi farà fare qualcosa comunque diciamo è una cosa abbastanza carina e vedrò come sarà il tutto quindi niente qui ragazzi il video sta giungendo al termine io vi chiedo di lasciare 500 like per la fine di questa golden week comunque i gameplay della prossima settimana rimarranno lo stesso assurdi e boh niente quindi qui da Retetive è tutto ci si becca, bella non ti piacciono i gtf figa ammazzati figa sparati quando arrivo devi farmi passare